Diamo ora lettura del messaggio inviato dal Presidente della Camera, Gianfranco Fini. La ringrazio vivamente, gentile Presidente, per il gradito invito a partecipare all'Assemblea Nazionale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che avrà luogo a Roma il 15 novembre 2012. Le imprese artigiane e le piccole e medie imprese costituiscono il tradizionale motore dell'economia italiana, caratterizzata spesso da standard produttivi di elevata qualità, pregevole espressione del nostro made in Italy. La perdurante crisi economica e finanziaria internazionale ha messo dura prova al nostro sistema produttivo, determinando in molti casi un sensibile ridimensionamento del fatturato e dell'occupazione, che ha inciso sui settori da anni duramente impegnati per difendere e consolidare le proprie quote di mercato. Al riguardo occorre valorizzare il patrimonio di cultura aziendale della piccola e media impresa e dell'artigianato e rimuovere gli ostacoli ad una solida ripresa produttiva, fondata sulla crescita della domanda e degli investimenti produttivi, mediante l'adozione di efficaci politiche di sostegno in materia fiscale e amministrativa. In una situazione in cui è necessaria un'attenta individuazione delle priorità nella gestione delle risorse pubbliche, ritengo essenziale che sia accentuato l'impegno volto a rendere la nostra pubblica amministrazione più snella, agile ed efficiente, in modo che essa sia davvero al servizio dei cittadini e delle imprese. Dobbiamo essere consapevoli che è essenziale per il futuro del Paese creare le condizioni più favorevoli all'avvio e alla prosecuzione delle attività imprenditoriali, riducendone i costi e le diseconomie derivanti dalle inefficienze burocratiche. Le istituzioni e gli operatori economici devono impegnarsi per favorire gli investimenti aziendali nella ricerca e nell'innovazione tecnologica e quelli volti a promuovere l'incremento dimensionale e qualitativo delle nostre attività produttive. È necessario favorire una maggiore presenza italiana sui mercati internazionali anche attraverso gli strumenti telematici offerti dalla rete web per cogliere tutte le opportunità offerte dall'attuale fase storica. Nel formulare l'auspicio che i lavori dell'Assemblea nazionale offrano un importante contributo di approfondimento e di proposta, in vista di una rapida ripresa del nostro tessuto produttivo, desidero inviare a voi tutti i miei più cordiali saluti ed un sincero augurio di buon lavoro. Gianfranco Fini